che morbido e che profumo è l'aurora no mi sa che avete sbagliato la vagina questa è quella mia scusi san nani mi chiede ma io se non chiamare a voler c'è No, 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 no. Un comunista abbandonato non ha più patria, non ha più ideali, non ha più accesso alle sezioni del partito. Fuori c'è freddo, c'è vento, c'è rifondazione. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più, se sposti un po' la seggio là, stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono a stare in compagnia, sorridi al nuovo ospite. Un comunista abbandonato ha 99 probabilità su 100 di diventare socialista nel giro di pochi giorni. Per un Natale democratico, regalati un po' di opposizione.